Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda Risponde. Oggi parleremo di organico di fatto e a chi vanno questi posti di organico di fatto. La prima domanda che ci viene posta è la seguente. Cosa sono l'organico di fatto e i posti in deroga? Quanti posti in più ci saranno a disposizione? Allora, partiamo col dire che l'organico dell'autonomia 2021-2022 del personale docente è costituito da 106.179 posti di sostegno, chiaramente per tutti gli ordini e gradi di istruzione. 620.623 posti comuni, anche qui per tutte le classi di concorso e per tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, e 50.202 posti di potenziamento distribuiti per infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. L'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto rappresenterebbe proprio l'organico di fatto. avviene quando vi sono degli scostamenti del numero degli alunni iscritti rispetto a quanto comunicato per la costituzione del predetto organico di diritto e di potenziamento, ovvero per situazioni particolari, come ad esempio quelle che si erano venute a creare nelle zone colpite negli scorsi anni da gravi eventi sismici. A tale adeguamento per l'anno 2021-2022, se ci saranno finanziamenti aggiuntivi, verrà anche riproposto l'organico cosiddetto Covid. Inoltre è previsto un incremento notevole dei posti di sostegno, con l'aggiunta di circa 90.000 posti in deroga. In buona sostanza, l'organico di fatto orbita intorno ai 100.000 posti disponibili. Seconda domanda. Quali docenti possono aspirare ad avere assegnato un posto in organico di fatto? I posti in organico di fatto possono servire per incrementare i movimenti della mobilità annuale, per cui possono andare alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. Chiaramente utilizzazioni e assegnazioni provvisorie possono anche ambire a posti in organico e l'autonomia non assegnati in ruolo, dunque rimasti disponibili e vacanti dopo i contingenti e le operazioni di inserimento e dell'emissione in ruolo 2021-2022 e anche quelle 2020-2021 dei posti in surroga. Detto questo, possiamo dire che inoltre possono anche andare alle supplenze annuali attraverso le GAE, le GPS provinciali, le gradatorie provinciali per le supplenze, ma anche ai docenti presenti nelle gradatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia. Anche i docenti che presentano ai dirigenti scolastici una semplice domanda di messa a disposizione, possono aspirare ad avere un contratto annuale a tempo determinato su tali posti di organico di fatto. Come si distribuiscono in una regione i posti in organico di fatto? Allora, dobbiamo dire che i direttori degli uffici scolastici regionali, previ interlocuzioni con le regioni e dopo aver fatto l'informativa con le organizzazioni sindacali regionali, secondo quanto indicato dagli articoli 5 e successivi articoli del contratto collettivo nazionale 2016-2018, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun ufficio scolastico regionale. Questo viene fatto nel mese, in ogni mese di luglio. Speriamo che queste risposte a tali domande possono essere utili ai nostri lettori. seguiteci ancora nel nostro sito www.tecnica della scuola e nei nostri social Facebook e YouTube perché tratteremo proprio in questi periodi di utilizzazioni, assegnazione provvisoria e organico di fatto. Dunque un saluto a tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.